Bentornati a tutti in un nuovo video di Collector Plaza. Oggi parliamo di stand per carte gradate. Qua in sfondo vedete già due modelli di stand, entrambi prodotti dall'Ultra Pro. Questo qua di sinistra è uno anche dei più economici, composto da due pezzi, che permette di regolare l'inclinazione della carta o di quello che andrete a metterci. Mentre questo qua di destra funziona ad incastro, molto simile allo stesso stand, sempre Ultra Pro, per i One Touch da 35PT. E come avete visto, la carta ci sta anche all'interno della sleeve, ma ovviamente entra ancora meglio se è senza sleeve, quello a vostra scelta. Facciamo una prova di come entra eventualmente la grad e direi che va ancora meglio perché il case è leggermente più sottile, per cui entra facilmente, ma comunque sta ferma all'interno, non cade anche se la scuotete. Per cui ideale per entrambe. Ovviamente non ci sta né una Beckett né case diversi, ovviamente questo è un po' un caso. Di fatto è progettato solo per PSA, specificato anche nella confezione. Direi che alla fine cambia un po' solo a livello di gusto personale, se preferite averli belli fissi, stabili così, o se magari preferite poterne regolare l'inclinazione. A me piacciono entrambi, sinceramente ne tengo solo alcune esposte e uso queste che le utilizzo anche con altre cose, ad esempio le cassettine per Game Boy o quant'altro. In ogni caso trovate entrambi gli stand sul nostro sito collectorplaza.it, link ovviamente in descrizione. Seguite ovviamente il canale e trovate una categoria proprio dedicata alle carte gradate, per approfondire un po' come funzionano le caratteristiche, anche differenze tra le varie gradazioni. E soprattutto anche per vedere i prossimi arrivi in merito, che più o meno ogni 1-2 mesi ce ne saranno. Per cui mi raccomando iscrivetevi al canale e al prossimo video.